Al palacongresso di Rimini si è conclusa domenica la 43esima conferenza nazionale animatori di rinnovamento nello spirito. Il tema scelto per questa edizione alla quale hanno partecipato i responsabili delle comunità provenienti da tutta Italia tra cui molti marchigiani è stato quello della chiamata al servizio generoso verso gli altri. Tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Il tema deriva dal Vangelo ed è la grande sfida di sempre. Gesù dice vi riconosceranno, sapranno che voi siete i miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. E il sottotitolo è in fondo un'esplicitazione di questo tema evangelico deriva da Papa Francesco il discorso ultimo fatto al rinnovamento alla vigilia di Pentecoste evangelizzare e amare. Dunque qui a Rimini i servitori coloro che vogliono fare della loro vita un servizio d'amore e dunque della evangelizzazione l'esplicitazione di questo servizio che rendiamo all'uomo, alla salvezza dell'uomo nella storia. A partire evidentemente dai gruppi e dalle comunità ai quali si orienta primariamente l'impegno degli animatori. 6.000 persone si sono preparate lungo questi mesi estivi trascorsi per rendersi disponibili a questo servizio e qui ne abbiamo 4.000 in rappresentanza di tutti i gruppi e le comunità. Sono 1.800 sul territorio italiano ai vari livelli, da quello locale al livello nazionale. Quattro giorni intensi di incontri, simposi e preghiera guidati dal Presidente nazionale Salvatore Martinez e riconfermato nel suo ruolo fino al 2022. Guardando l'attualità, i giorni nostri eccetera, lei ha citato Papa Francesco che ha detto evangelizzare è un servizio d'amore. C'è ancora nel cuore dell'uomo questo desiderio di evangelizzare? Se si accoglie lo spirito sì, altrimenti c'è morte, c'è abbandono, c'è rifiuto, c'è smarrimento, c'è confusione, c'è divisione. Dove manca lo spirito non manca solo Dio, manca anche l'uomo. La crisi è spirituale e dunque bisogna trovare soluzioni spirituali. Ma se c'è deficit d'amore, se c'è carenza d'amore, tutto questo in realtà non potrà avvenire. Lei che sarà la guida del più grande movimento italiano fino al 2022 è chiamato a trovare anche queste soluzioni? Sì, comunitariamente perché lo spirito parla alla comunità, parla alla Chiesa. Guidare una realtà complessa, articolata come quella del rinnovamento in questo tempo di grandi fragilità umane, sociali, è una grande sfida. Ma non solo non siamo soli perché lo spirito ci assiste, ma è meraviglioso sapere che è un lavoro che in termini di corresponsabilità coinvolge tanti doni, tanti carismi, tante pedagogie, tante esperienze, tanti responsabili ai vari livelli. Questa è una delle gioie più profonde del mio cuore vedere con quanta disponibilità, serietà, coraggio e anche una nuova generazione di responsabili, di animatori non vuole delegare ad altri il proprio impegno, ma risponde con una fede alta, con una fede carismatica alle grandi sfide di questo nostro tempo. Di grande interesse anche i simposi proposti ai responsabili del movimento. Tra questi spicca sicuramente quello dedicato alla legge, condotto dal giurista Alberto Gambino sul tema della legge e misericordia. Le leggi sono misericordiose quando fanno l'interesse della cittadinanza, in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza. C'è il rischio che in Italia si possa dare la possibilità alla gente di morire con l'eutanasia? C'è un rischio perché c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto al cosiddetto suicidio assistito. C'è la possibilità che davanti a certe circostanze molto dolorose si possa chiedere la fine della propria esistenza in modo artificioso. Sarà molto importante che non venga coinvolto il Servizio Sanitario Nazionale perché sarebbe ribaltato il ruolo del medico e il ruolo delle strutture sanitarie che curano sempre, ovunque, curano anche le persone che non sono più guaribili, anche le persone indigenti. Fate attenzione che l'eutanasia è la morte dei poveri soprattutto. In quel caso l'obiezione di coscienza? Quello è il minimo sindacale, cioè se davvero dovesse entrare l'eutanasia certamente ci deve essere l'obiezione di coscienza, ma io spero che ai medici non venga chiesto questo come ruolo sociale non ci possa essere questa possibilità perché ne verrebbe svileta una professione che da duemila anni giura di non somministrare veleni al malato neanche su sua richiesta. Archiviata la conferenza nazionale, il popolo di rinnovamento si prepara ad un altro appuntamento importante che si terrà a ridosso del Natale all'interno di numerose carceri italiane. Un'occasione in più per amare, come ci ricorda Papa Francesco, che altro non è che il sinonimo di evangelizzare.